...per tutti tranne per quelli che diranno che si temeranno vostro figlio, quelli sicuramente vi prendono in giro. Si esprime con la consueta schiettezza a proposito delle prossime elezioni politiche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sollecitato dai giornalisti a margine di un'iniziativa soverato per presentare il suo ultimo libro, Complice e colpevoli. Gratteri si è soffermato sul tema delle infiltrazioni dell'Andrangheta al nord, al centro del libro scritto insieme ad Antonio Nicaso e ha commentato la crescente consapevolezza dei cittadini rispetto alla pervasività del fenomeno mafioso. La gente ha bisogno di capire, la gente ha bisogno di sapere e da questo punto di vista c'è un miglioramento, c'è sempre più gente che dimostra di non essere masochista ma che ha voglia di prendere posizione. Alla consapevolezza civile non segue però altrettanto impegno istituzionale. Non lo sto vedendo, assolutamente non lo sto vedendo, non sto vedendo dei progetti a medio e lungo termine, non sto vedendo una volontà politica di combattere, di contrastare le mafie in modo serio e concreto nel rispetto alla Costituzione, questa non la sto vedendo proprio. Gratteri risponde in maniera chiara ad una domanda sul sempre più diffuso sentimento di sfiducia generato dai tanti processi che finiscono in prescrizione. Lo deve chiedere il ministro Cartabia che ha fatto l'improcedibilità, non a me. Grazie.